ciao ragazzi oggi vi farò vedere un semplice trucco con delle carte da poker ovviamente quadri cuore fiori picchie che però vedere un trucchetto molto facile da imparare dovrete dovrete trovare delle ire senza vedere le carte io metto questa 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 e questo metto quattro carte ho preso quattro carte carte normali o carte normali e ovviamente sono il facinissimo ora vi farò vedere il tutorial benvenuti al tutorial delle quattro carte uguali come ho fatto semplicemente è semplicissimo vabbè io avevo provato il trucco quindi erano già sopra però se voi guardate attentamente non so se si vede io ho segnato le carte con un segnetto non so se si vede tutte quattro le carte lo segnate quindi è chiaro che dovete andare piano facendo questo da prendere le carte lo vedete bene e mettete qua queste qua ovviamente sono le carte magiche ciao ci vediamo nel prossimo video tutorial